Il voto complessivo di questo articolo di Nuvita è di 9 su 10. Risulta essere la nostra scelta migliore. I suoi punti di forza sono. Facile da usare. Comodo. Facile da pulire. Ottimo rapporto qualità prezzo. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Nuk ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Le sue qualità sono. Facile da usare. Comodo. Durabilità. Ottimo rapporto qualità prezzo. Versatilità. In basso. Nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. La valutazione di questo prodotto di Artig più Ealing è di 8.8 voti su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. I punti di forza sono. Facile da usare. Comodo. Leggero. Facile da pulire. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Suavinex ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.8 su un totale di 10 punti. Risulta essere il prodotto più regalato. Le sue principali funzionalità sono. Facile da usare. Comodo. Ottimo rapporto qualità prezzo. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Chicco è di 9 su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Facile da usare. Versatilità. Ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo. Facile da pulire. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato.